Poi dopo due giorni buttare il latro, quando premere non esce niente perché il limone è dura, quella no, fantasello piccolo qua, ti metti dentro il limone o anche l'arancia, l'arancia e il limone giri, devi girare fino al fondo, apri il tappo, premere qui e esce il sugo senza semi, quando c'è là il pisciolino a casa fai il limone a pesce, quando cucinare il cane al forno fai il limone al cane, è buonissimo il cane è caldo con il limone, il tappo lo metti nel frigo dopo dieci anni e il limone è ancora buono, però il cane è morto, il frigo è morto, il frigo è morto, il limone è ancora buono perché c'è il tappo, e l'altra qui, numero due, si, ci ha, ci accendi, ci ha, questa lì numero due per fare le patate, quella le metti dentro la patate poi spinne e vai avanti, spin vai avanti, entra la patata, spinn e vai, però devi uscire dall'altra parte dalla patata se ce la fai, se ce la fai, lì va il manico qui, lì va a pone il ferro e l'altra parte lì, ma non tira e devi svidare la patata, perché la patata non si tira, la patata si svita qui la fanno fritta nell'olio perché escono i due se non vuoi far fritta fanno il forno con il pollo questa è il pollo quella patata quella è negro africano quella è la polla milanese però Salvini non voleva il pollo nero esplosare la polla bianca tu capito perché? qui metti carne intorno salsiccia ripiena se no infili la carota dentro la patata guarda bene non ti ricordi più carota le mettono così dentro la patata e fai le carote insieme con le patate al forno col camello con il camello col pollo patata al forno puoi cucinare carota insieme con la patata questa è qui quella è la due perché uno uno fare il succo del limone anche l'arance uno fare la patata guarda andamolo tre è qui qui c'è anche il video su youtube a casa puoi vedere youtube spiegazioni in youtube c'è anche l'assistenza mi chiami io vengo a casa se metti dentro la patata gira uno due tre quattro cinque e il dito metti questo non devi sbagliare il dito metterla e vai così vengono la patata succhina citriola cipura panella amela fino a domani se vuoi esce pure la sera fa la collana vuoi fare la decorazione là vuoi fare la chips apri un tassello così vengono chips mi ama non mi ama mi ama non mi ama mi ama non mi ama felice se vuoi pulisce anche l'orecchio spinne un po' giro esce il cervello se c'è se non c'è non è colpa mia è quella così è quella così tutti i tre insieme qua costano dieci se prende due quindici perché roba rubata al Vaticano roba rubata al Vaticano ciao